Allora, riprendiamo, direi appunto cerchiamo di stare un po' nei tempi perché i dibattiti se no lo strozziamo eccessivamente e poi qualcuno rischiamo che Giuliano lo accusino appunto di aver come dire bloccato qui da due giorni da un gruppo di studiosi, diciamo Allora, la parola al professor Renato Balduzzi Prego Renato Grazie Carlo, grazie agli organizzatori complimenti per l'idea e per l'attuazione dell'idea non sempre nei nostri convegni si possono fare i complimenti all'idea e all'attuazione dell'idea ecco quindi mi pare importante sono anche lieto personalmente di avere detto questa mattina a Massimo Luciani e al nostro presidente attuale di sessione la mia disponibilità a intervenire successivamente rispetto all'ordine iniziale perché questo mi permetterà forse di stare nei tempi e quindi in quanto alcune delle cose che io mi ero segnato le ho sentite enunciare in particolare negli interventi di Massimo Luciani e di Enrico Grosso quindi su queste potrò andare più velocemente mi sembra che il titolo del nostro convenire e in particolare nonostante il punto interrogativo della sessione attuale in fondo sembri supporre che siamo sulla stessa barca ecco per usare una metafora che nel periodo della pandemia è stata autorevolmente usata questo però non significa anche a mio parere e direi per le stesse ragioni poi c'è qualche differenziazione ma magari verrà fuori dopo per le stesse ragioni che enunciava Luciani cioè per quella difficile quel difficile incontro tra politica e diritto questo non significa che sia possibile parlare appunto di una unità trasfrontaliera ma se non si può parlare anche a mio giudizio di una unità trasfrontaliera non vuol dire che non si possa anzi non si debbano mettere in evidenza le convergenze ho provato a individuare avevo individuato tre esempi due di questi sono già stati abbondantemente evocati nel corso della nostra giornata per cui li accenerò soltanto nella seconda parte dell'intervento mi concentro sul primo esempio che avevo individuato cioè il modello italiano di magistratura e di consiglio superiore della magistratura dico modello perché così è chiamato normalmente sia nel dibattito francese mi ricordo come souvenir personale una riunione a Dakar di tutti i consigli superiori della magistratura di area francofona cui benignamente era stato invitato anche il consiglio italiano e l'accoglienza avuta da parte dell'allora procuratore generale presso la corte di Cassazione entrando la delegazione del CSM che avevo l'avventura di presiedere si alza in piedi mi viene a salutare mai visto prima dice ecco finalmente la delegazione italiana notre modèle e sentire un francese non prendetevela ecco dire a un italiano notre modèle è qualche cosa che non capita proprio tutti i minuti ecco ma non è soltanto in Francia perché la stessa cosa del modello italiano di magistratura e di CSM è moneta corrente in Germania per dire noi non vogliamo quel modello lì il modello di CSM in particolare noi abbiamo un altro modello però è ammesso che si tratti di un modello se è un modello ha delle caratteristiche specifiche che dunque lo rendono difficilmente oggetto di una convergenza comparata ciò nonostante non è difficile vedere che anche su un tema così specifico nella comparazione il tema dei rapporti tra politica e magistratura è normalmente nella letteratura internazionale qualificato come un argomento system specific quindi qualche cosa che è difficile da comparare infatti i lavori comparatisti sono pochissimi per questo motivo poi probabilmente anche qui molta acqua è passata sotto i ponti probabilmente si potrebbe invece cominciare e magari qualcuno ha già iniziato a fare un lavoro comparato anche su questo però è chiaro che tra il modello italiano e quello francese di magistratura e CSM ci sono differenze evidenti la magistratura è ordine, costituisce ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ordine e potere 104 della Costituzione italiana l'articolo 64 oltre a dire che è il Presidente della Repubblica il garante dell'indipendenza della magistratura parla di indipendenza non di autonomia e di indipendenza dell'autorità judiciaire non dell'ordore né del pouvoir che tra l'altro è costato a un collega l'essere approvato della procedura che qualche modo ricordava poco fa Fieri di Manu ma non solo pensiamo soltanto alla posizione del pubblico ministero che forse è un elemento più particolare proprio per quanto riguarda la differenza la quasi separazione delle carriere contro una distinzione delle carriere tema ovviamente caldo in Italia e poi alla composizione e alla posizione costituzionale del CSM italiano rispetto all'omologo francese siamo in presenza di una grande differenza poi quando io dico modello siamo tutti consapevoli che una cosa è il modello costituzionale altra cosa può essere l'attuazione pratica del modello le opinioni divergono quando si tratta di andare a vedere come rimediare a certe disfunzionalità o a certi scandali qualcuno vuole cambiare il modello costituzionale qualche altro vuole secondo me più saggiamente vedere se è possibile fare qualcosa per migliorare l'attuazione del modello visto che è un modello però comunque il tema in questo bene nonostante questo le convergenze sono molto evidenti sono convergenze evidentemente anzitutto culturali attraverso quell'opera della dottrina che veniva richiamata e sono convergenze che portano su un tema così appunto specifico portano a immaginare che alcuni profili distintivi non siano da considerarsi distintivi per sempre prendiamo il problema dell'indipendenza del pubblico ministero in Francia del parquet io credo che sia un tema ancora aperto ci sarà a dicembre a Tolone meritoriamente anch'io vorrei sottolineare l'importanza direi strategica che ha il Sede Pessè Jean-Claude Scarras proprio in questo dialogo italo-francese quindi ci sarà a Tolone proprio un colloquio un seminario sul tema dell'indipendenza del pubblico ministero d'altra parte la decisione del Consiglio Costituzionale di fine dicembre 2017 ma che Pessè oltre ad avere almeno in parte è un po' lunga un po' più lunga della media ma se vai a vedere esattamente non è che affronta le questioni le affronta in quel modo che simpaticamente l'onestà intellettuale di Thierry Di Mano metteva in mostra poco fa ecco le affronta qualche volta un po' sorvolando e non è neanche di facilissima interpretazione forse qualche attenzione in più da parte della dottrina francese su quella decisione non sarebbe malvenuta perché ho notato che tutto su fatto non ha avuto tutta la eco che mi sarei per esempio immaginato letta da un italiano sembra quasi un'interpretativa di rigetto perché il Consiglio Costituzionale nella sostanza dice no non c'è contrasto meglio c'è compatibilità perché ma perché la regola legislativa o dell'ordonnance vive nell'ordinamento in un modo diverso da quello che si poteva presumere in quanto comunque il Ministro della Giustizia non può dare istruzioni specifiche al Pubblico Ministero ma solo istruzioni generali quindi sotto l'autorità del Ministro della Giustizia viene letta nelle norme e però appunto tutto questo appartiene a qualche cosa che ha più dell'interpretato che del positivamente disposto quindi una decisione che secondo me potrebbe essere considerata ancora una decisione interlocutoria dico tutto questo perché mi pare che il nostro colloquio stia il nostro convegno stia proprio sottolineando l'importanza della della dottrina di sé medesimo di quello che stiamo facendo così come siamo capaci al fine di individuare il nucleo essenziale degli istituti di ciascun ordinamento e in qualche misura di rendere possibile il confronto e anche di proteggere questi istituti rispetto a tendenze destrutturanti cioè c'è una in senso lato evidentemente c'è una funzione anche politica di questo nostro convenire che è collegata alla opportunità di assicurare la permanenza di alcuni principi di fondo dello Stato costituzionale di diritto come lo chiamava questa mattina il professor Modugno o democratico costituzionale come altri preferiscono chiamarlo ecco tutto questo mi pare molto da sottolineare perché si collega in fondo con una funzione ben conosciuta da tanti anni della comparazione al tempo stesso la comparazione è rivelatrice del diritto lo diceva Amort 70 anni fa forse di più e nello stesso tempo è un ausilio per proposte di politica del diritto non per profetizzare ma per individuare alcune linee di tendenza e questo è possibile evidentemente nella misura in cui i due ruoli della comparazione come rivelatrice del diritto e come ausilio per una politica del diritto si considerano strettamente intrecciati c'è poi un ragionamento ulteriore su cui anch'io faccio una battuta non di più e cioè qual è la ragione che porta a convenire attorno ad alcuni principi costituzionali forti beh a parte che con almeno nell'ambito dell'Unione Europea c'è una ragione giuridica che significa rispetto delle tradizioni costituzionali comuni quando non si rispettano vediamo Polonia e non solo insegna che cosa succede ma e questo si potrebbe certamente andare a chiederci il perché di tutto questo prima Luciani dava una chiave di lettura ecco la mia forse complementare se non alternativa io penso che tutta la vicenda dell'Unione Europea ha avuto più il segno distintivo della protezione della pace che non immediatamente un interesse economico l'interesse economico è sempre stato probabilmente strumentale a quello e la protezione della pace è la protezione del bene primario che consente lo stato costituzionale di diritto senza il quale probabilmente non ci può essere stato costituzionale di diritto ma questo ci porterebbe lontano invece volevo fare due battute proprio sugli altri esempi che mi ero segnato ma che hanno già avuto una direi importante sottolineatura oggi il primo esempio naturalmente era quello della giustizia costituzionale ancora una volta la grande onestà tua noi la apprezziamo molto però con altrettanta franchezza e onestà io ti devo dire che certo la storia è stata quella e quindi correttamente tu dici vi dobbiamo tutto ma anche noi vi dobbiamo molto perché alcune formule riassuntive che danno il senso dell'operazione complessiva della giustizia costituzionale noi le abbiamo mutuate dalla cultura e dalla dottrina francese una per tutte la formula della politica non è una formula scontata quella intuizione di lui meglio di Claude Merit che poi lui riuscì a diffondere in tutto il mondo di afferrare la politica che per sua natura insomma vuole essere inafferrabile da parte del diritto del diritto costituzionale è qualche cosa di molto importante proprio al fine di non soltanto avere attenzione per i profili tecnico-procedurali ma proprio per il contesto complessivo in cui la la nostra azione si si svolge e questo indubbiamente ci fa dire che la pressione direi del dialogo e della della dottrina che porta ad una spinta di convergenza può ancora fare della strada ecco tu hai individuato mi rivolgo soprattutto a che ha individuato alcuni profili ancora aperti forse il più grande profilo aperto è quello della possibilità da parte è quello naturalmente del filtro ma per quanto riguarda l'HPS ma lasciando stare il problema del filtro che mi sembra più duro da affrontare almeno la possibilità che le autorità che possono diciamo impugnare davanti al Consiglio Costituzionale nell'ambito dell'HPS lo possano fare d'ufficio e che lo possa fare anche il giudice comune perché questo sarebbe davvero il superamento di qualità e questo è il dato di fondo perché se no il modello italiano è diffuso proprio per questa ragione perché se è vero che non ha gli stessi poteri della Judicial Review perché non può disapplicare è anche vero che non la può neanche applicare non la deve neanche applicare se ha dei dubbi perché se ha dei dubbi gli scrive e l'applica la sentenza è diciamo cassabile in senso lato quindi questo è il punto e su questo probabilmente il nostro dialogo deve continuare l'ultimo esempio Carlo sono ancora un minuto l'ultimo esempio sulle fonti questa mattina Franco Modugno ha insistito mi ha colpito molto due volte nell'esempio 34-37 della Costituzione francese no indubbiamente ecco io utilizzo lo stesso esempio ma da un altro punto di vista proprio per dire come se non c'è se non può esserci una unità trasfrontaliera c'è comunque sempre una grande convergenza il modo concreto con cui 34-37 e 41 vivono nell'ordinamento francese è lontano dal modo con cui poteva essere eletto no famoso convegno di ex del 78 con le conclusioni di Jean Riverot no la rivoluzione poteva esserci stata non c'è stata perché perché comunque per una serie di ragioni principalmente secondo me per le ragioni del dialogo tra le dottrine del consolidato culturale comunque la legge differenziata non più centrale tutto quello che vogliamo ma mantiene una sua se non centralità ma almeno strategicità nell'insieme delle fonti non diciamo sistema per le ragioni che il professor Modugno ha sintetizzato da per suo oggi che anche in presenza di una divisione in apparenza così netta in realtà poi tutto questo è stato sfumato questo secondo me è un esempio ancora forse più calzante rispetto a quello che sto cercando di sostenere nel senso di dire che davvero la la premessa del nostro convenire e cioè il dialogo tra le dottrine quando anche non arrivi perché non può per tante ragioni in assenza di quella congiunzione forte tra diritto e politica la questione del demos con tutto quello che significa stamattina abbiamo anche ascoltato delle cose interessanti sulla democrazia non solo rappresentativa comunque ha un significato di spinta verso una convergenza allora per tornare alla metafora iniziale della barca in cui siamo tutti probabilmente siamo davvero sulla stessa barca il mare è sempre più lo stesso magari agitato ma sempre più lo stesso ma non abbiamo gli stessi remi non abbiamo gli stessi strumenti non abbiamo lo stesso modo di remare e qualche volta facciamo anche fatica a comprendere le parole abbinate alle cose ma noi abbiamo il vantaggio di quella che io scherzando da anni chiamo la Costituzione Baudresse quindi che ci ha fatto un po' di protezione di cordone sanitario l'importante però è che la barca dello Stato democratico costituzionale o costituzionale di diritto beh questa barca non ha fondi e credo che e lo dico non come diciamo lode formale agli organizzatori ma lo dico perché effettivamente questa è qualche cosa a cui la mia generazione non aveva pensato questo legame orizzontale generazionale dei giovani costituzionalisti italiani e francesi è veramente un salto di qualità ecco perché la barca dello Stato democratico costituzionale non ha fondi occorre davvero che i costituzionalisti non l'abbandonino e perché i costituzionalisti non l'abbandonino iniziative come la vostra di collegamento orizzontale tra costituzionalisti della stessa generazione per i più giovani mi sembra veramente qualche cosa di molto molto importante per cui il ringraziamento è davvero serio e non è il modo con cui terminare un intervento grazie 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 Renato verifichiamo soltanto se c'è la professoressa Pontoro grazie grazie e organizatore e in particolare Giuliano Cerges e perché mi dispiace davvero non essere con voi a Roma ma riflessione è parte di l'intitulare della table ronde e ho 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 surprise par le choix du terme transfrontalier qui n'est pas le terme le plus habituel habituellement en effet on trouvera plutôt le terme transnational donc je suis parti de ce terme et en regardant du côté des juristes je n'ai pas trouvé grand chose et je me suis tourné du côté de la géographie les géographes en effet emploient plus volontiers le terme transfrontalier alors dans un sens faible je l'évite écarté puisque ça renvoie à la coopération transfrontalière c'est à dire la coopération entre des régions voisines mais dépendantes de différents états il m'a semblé que cela ne correspondait pas aux objectifs des organisateurs et puis c'est bien connu aussi c'est vrai des publicistes donc je pensais que ce n'était pas cette perspective et heureusement les géographes ont aussi un sens fort qui est beaucoup plus intéressant à retenir plus fructueux cette fois ci il s'agit d'envisager le dépassement des frontières et de la limite politique qu'elle constitue la notion d'espace transfrontalier désigne alors un espace qui dépasse un simple échange entre deux espaces frontaliers de manière à constituer un espace structuré d'échanges et des échanges aussi institutionnalisés reposant sur un ensemble de traits commun alors ce sens fort permet d'introduire également la notion d'intégration cette idée d'intégration alors on la retrouve d'ailleurs dans l'intitulé de la table ronde avec le choix du terme unité alors toutefois les deux termes ne sont pas synonymes ni même équivalents l'intégration tant à l'unité c'est donc plutôt un processus alors que l'unité en serait la finalité cet objectif est bien connu dans le cadre de l'intégration européenne et cela renvoie dans le cadre d'un espace régional on va dire extra large à des questions qui ont été déjà débattues je pense au patrimoine constitutionnel commun ou encore au constitutionnalisme multiniveau alors à ce stade de la reformulation de l'intitulé pourrait être la suivante vers l'unité transnationale du droit constitutionnel alors cependant un décalage est perceptible entre le processus la transnationalisation et la finalité l'unité par ce décalage introduit le doute sur la capacité du processus à produire de l'unité alors cela ne signifie toutefois pas que le processus ne puisse tendre vers l'unité ce qui n'est pas exactement la même chose en revanche cela laisse percevoir des des obstacles des tensions entre ce qui est commun et ce qui est partagé le choix de du terme transnational est alors pertinent il présente un intérêt puisqu'il permet de mettre l'accent sur les frontières et donc sur les obstacles à la réalisation pleine et entière de l'unité alors ce sont les obstacles d'ordre épistémologique qui sont posés à mon sens par cette question de l'unité transfrontalière de la doctrine et deux perspectives se dessine double lecture me semble-t-il peut être proposé la perspective donc transnationale mais aussi une perspective étatiste qui elle au contraire tari les échanges en rappelant l'importance du territoire national en droit constitutionnel j'ai surtout insisté sur la perspective transnationale puisque cela me semble l'hypothèse formulée par les organisateurs de cette rencontre donc et en raison du temps aussi qui m'est donné ça me semble le plus pertinent j'essaierai quand même de dire un petit mot sur la perspective étatiste alors cette perspective transnationale conduit à reformuler la question principale celle ci n'est plus qu'est ce que le droit constitutionnel commun mais comment pense-t-on le droit constitutionnel commun et du coup il est possible de décliner toute une série d'interrogation notamment existe-t-il une communauté juridique dont les membres partage le même langage les mêmes méthodes les mêmes lieux d'expression et donc les mêmes revues donc le temps à ma disposition me laisse envisager deux questions principales la communauté de juristes en formation existe-t-elle et puis ensuite quels sont les lieux d'expression de cette communauté alors cette communauté ce ne sont pas seulement les membres de la doctrine ce sont aussi les juges avec la particularité qu'ils sont aussi objets d'études par par les membres de la doctrine alors je dirais que de ce côté là ce sont des acteurs que je pourrais qualifier de presque muets alors ils ne sont pas totalement aveugles mais il est clair qu'il n'y a pas un échange en tout cas visible dans les décisions rendues par le conseil constitutionnel et par la co constitutionnelle italienne alors c'est vrai que certains juges du moins dans le passé je me semble pas qu'actuellement aussi bien du côté français que du côté italien il ya des juges qui militent pour ou en tout cas qui s'exprime en faveur de l'utilisation de décisions constitutionnelles étrangères pour éclairer les décisions nationales et la alors ça ne veut pas dire parce qu'on ne voit rien dans les décisions que les juges comme je le dis sont complètement ignorants de la réalité dans lesquelles ils évoluent bien au contraire ils savent qu'ils sont dans un contexte mondialisé et par exemple les dossiers documentaires du conseil constitutionnel nous montrent que parfois en effet les juges ont bien conscience que d'autres décisions étaient rendues je pense en particulier à la décision rendu en 2013 sur le texte de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe et dans le dossier documentaire plusieurs décisions de co constitutionnelles européennes sont citées donc pour conclure et je vais assez vite sur ce point que beaucoup occupé la doctrine je dirais et je l'ai déjà défendu ailleurs il me semble pas approprié de parler de dialogue des juges ou de dialogue entre les juges aussi bien d'un point de vue empirique que conceptuel je pense qu'il est de ce point de vue plus intéressant pour la question que j'ai posé initialement regarder le travail fourni par les membres de la doctrine et là on a effectivement des membres tout à fait actifs il me semble et ça a déjà été mentionné en début de journée si on doit avoir un point de repère il me semble que c'est l'article publié par Jean-Claude Escaras en 1986 dans l'annuaire international de justice constitutionnelle qui permet justement de constituer un marqueur du dialogue noué entre les membres de la doctrine française et de la doctrine italienne sur la justice constitutionnelle alors justement les membres de l'université de Toulon sont bien représentés pour cette manifestation mais depuis en effet nous avons en France un centre de recherche qui se consacre à l'étude du droit public italien unique en France on a désormais une diaspora italienne visible actif en France alors il ne me semble pas en revanche qu'il existe une telle présence d'universitaires d'origine française en Italie à ma connaissance il y a exclusivement deux professeurs de l'institut universitaire européen de Florence donc d'origine française qui ont terminé leur carrière en Italie alors je parle évidemment là aussi avec une certaine connaissance de cet institut parce que moi-même j'ai réalisé ma thèse de doctorat et donc l'institut est en effet une courroie de transmission de jeunes docteurs français qui font leur carrière dans les universités européennes et surtout ils se dirigent vers le Royaume-Uni alors le système universitaire italien reste sans doute plus fermé c'est probable que ce soit lié à la rareté des postes qui laisse peu de chance à des éléments externes et pousse même les universitaires italiens à quitter leur propre système l'université française de ce point de vue reste attractif alors la question à ce stade qui peut être posée et la suivante le modèle anglo-américain n'est-il pas plus attractif que le modèle français et ici plusieurs indices laissent penser qu'en effet le premier serait plus attractif que le second plusieurs éléments ici peuvent être avancés d'abord l'importance de la langue il faut reconnaître que le français n'est plus aussi bien maîtrisé par les nouvelles générations que de par le passé et cela joue en faveur de l'anglais alors ce n'est là et on le voit c'est important à souligner ce n'est pas en soi le modèle de common law qui est plus attractif mais c'est ce que représente la culture anglo-américaine dans le monde globalisé deuxième observation cela regarde de manière plus spécifique le droit c'est l'exportation l'exportation italienne en France dans le domaine du droit et récente on peut dire que ce sont les années 2000 alors que dans d'autres disciplines notamment en histoire c'est beaucoup plus ancien enfin dernière observation l'exportation italienne reste marginale en France alors j'ai conduit une petite enquête et grâce je le souligne à des universitaires et amis italiens en France au Royaume-Uni en Irlande et même outre-Atlantique et il ressort de cette petite enquête alors qu'il n'est pas réellement scientifique mais qui donne un ordre dilaté et c'est là où c'est vraiment important pour synthétiser voilà ce que l'on peut dire l'écart entre les italiens faisant carrière en France elles sont 5 ce sont donc des femmes et ceux au Royaume-Uni au moins 14 se creusent même en comparaison avec l'Irlande où j'ai pu identifier 5 publicistes italiens faisant carrière là-bas or le système universitaire irlandais est nettement plus petit que celui français vous avez 6 facultés de droit alors qu'en France on en a au moins 54 c'est pas compter les universités privées ou les universités d'outre-mer donc on voit bien ici qu'il y a une vraie différence et une attractivité pour le monde anglo-américain et donc la conclusion à laquelle on peut parvenir c'est qu'en tout cas ce qui peut être avancé c'est qu'il n'existe pas un réel espace transnational de circulation entre italiens et français cela ne s'est pas formé au cours de ces deux dernières décennies en droit dans le domaine juridique faute de réciprocité la sphère des mobilités est plus large européenne et tournée vers le monde anglo-américain alors on a un autre signe je pense à l'intérieur même du système universitaire italien c'est que certains font le choix effectivement plutôt de s'estimer en italien c'est le choix par exemple qui a été fait par Marta Cartabia et Jacinto de la KNR de créer une revue en ligne Italian Journal of Public Law et comme son nom l'indique uniquement en anglais pour donner de la visibilité alors cela me permet de passer à la question des espaces d'échanges entre les membres de cette communauté et on voit bien qu'elle n'est pas réellement formée et là il faut se tourner en effet vers les forums qu'on peut qualifier de dénationalisés puisque le grand changement au cours de cette dernière décennie même de deux dernières décennies c'est le développement précisément des blogs et des revues en ligne et ce que l'on constate c'est qu'elles ne sont pas d'empreintes franco-italiennes on a plusieurs blogs avec une perspective transnationale et ceux qui viennent d'emblée à l'esprit il y en a au moins deux qui méritent ici d'être cités c'est « faire face un blog » et « iConnect » je dirais seulement un mot sur le premier et si je renvoie à la communication je ne parle que de celui-ci parce que c'est en effet le blog académique on peut le qualifier de pionnier c'est vraiment lui qui a développé cet espace d'expression et précisément « faire face un blog » a donné naissance à une nouvelle forme d'expertise qui vise plus particulièrement à alerter les institutions européennes de manière plus large tous citoyens intéressés par les questions juridiques européennes notamment donc relatives à la construction européenne et aussi celles relatives aux transgressions des valeurs de l'état de droit et des règles de l'Union européenne en particulier par les gouvernements polonais et hongrois donc si les idées traversent les frontières il faut quand même reconnaître que la finalité visant une unité transfrontalière du droit constitutionnel est loin d'être réalisée donc à cause d'une autre perspective qui est la perspective étatiste et en ce sens je crois qu'on peut souligner ce qui a déjà été dit et avancer qu'il n'existe pas une communauté épistémique commune bien que l'européanisation ait été scientifiquement accompagnée on touche ici à quelque chose de plus profond qui regarde la question de l'éducation juridique cela suppose de structurer de l'intérieur sur la base de chaque système juridique et universitaire alors au delà de cette question il y a une permanence des frontières l'espace de référence et donc de légitimité pour le droit constitutionnel c'est le territoire national alors il y a une sorte ici d'évidence dont témoigne d'ailleurs la constitution puisque la constitution nationale le plus souvent ne dit rien du territoire elle ne le définit pas ni de manière concrète c'est à dire d'un point de vue géographique ni de manière abstraite par sa fonction au sein de l'Etat pourtant le droit est compris comme constitutionnel parce que la communauté politique est constituée aussi grâce au territoire donc même si notre espace de référence est agrandi les frontières sont là alors certes moins comme des limites spatiales de l'exercice d'une souveraineté que comme signe d'appartenance à une communauté politique alors précisément ce glissement il est perceptible dans les rapports entre le droit de l'union de l'union européenne et le droit constitutionnel des États membres et dans cette question de rapport entre ces différents droits la nouvelle frontière prend le nom d'identité constitutionnelle la question a été abordée aussi ce matin ce qui m'intéresse ici c'est de m'interroger et là aussi de savoir ce qui se cache derrière ce choix d'identité constitutionnelle pourquoi cette référence à l'identité constitutionnelle ? il me semble que ce qui se cache derrière cette référence c'est ce que les cours ne peuvent pas dire car elles ne peuvent pas aller jusqu'à affirmer un droit à l'existence politique des États puisque l'intégration européenne est un processus voulu par les États membres eux-mêmes mais ils hésitent ils hésitent et donc on se trouve dans un entre-deux d'un côté chercher à copier la forme politique et étatique c'est le projet de constitution pour l'Europe en 2005 et de l'autre chercher à inventer une nouvelle forme politique que l'on attend toujours donc les rapports entre les systèmes constitutionnels et européens comportent aussi une dimension culturelle puisque les notions structurantes des ordres juridiques nationaux sont prises en étau entre les différents systèmes normatifs et d'ailleurs la cour constitutionnelle italienne l'a reconnue dans un renvoi préjudiciel elle a reconnu que la primauté du droit de l'Union n'exprime pas une simple je la cite une simple articulation technique du système des sources nationales et supranationales c'est l'ordonnance de 2017 alors là encore récemment le conseil constitutionnel a rendu une décision QPC ce matin il a été fait référence à cette QPC Air France donc du 15 octobre 2021 peut-être que cette décision sera vue par une partie de la doctrine comme la volonté de s'engager dans un dialogue avec la cour de justice de l'Union une chose est certaine en tout cas au moment où je parle c'est que d'un côté vous avez le conseil constitutionnel même s'il a procédé à un glissement puisque dans cette décision il est question de protection équivalente des droits et plus seulement d'identité constitutionnelle mais identité constitutionnelle est toujours présente dans la décision cette idée d'identité permet de mesurer ce qui nous sépare la nouvelle ordre politique alors que la cour constitutionnelle italienne elle préfère parler de tradition or cette notion de tradition représente au contraire l'instrument épistémologique de la conciliation on pourrait donc et c'est ce que je vais avancer il me semble qu'on peut avancer que les juges constitutionnels français et italiens ne font pas la même option ils ne partagent pas la même perspective autrement dit les français sont dans la perspective étatiste que j'évoquais et les juges italiens sont dans la perspective transnationale malgré ces différentes options ils sont pourtant confrontés aux mêmes questions et j'en citerai deux qui me semblent essentielles la constitution nationale est elle encore la loi suprême ou bien est elle supplantée par les normes européennes et l'autre question qui me semble encore plus fondamentale la constitution n'est elle pas aussi un texte d'identité politique et culturelle essentiel à toute communauté nationale donc ce sont des questions fondamentales pour la doctrine des deux côtés des Alpes et j'ai bien retenu et j'ai bien vu le point d'interrogation qui était formulé dans l'intitulé de la table ronde vers l'unité transnationale du droit constitutionnel ce point d'interrogation a une importance ce n'est peut-être pas tant l'objectif à atteindre cette unité transnationale qui est important ce qui est important c'est d'avoir conscience que nous partageons des questions communes sur le droit constitutionnel et d'échanger sur ces questions et précisément comme en témoigne cette rencontre et nous en féliciter je vous remercie merci alors la parole à Paolo Carnevale prego Paolo grazie Carlo vorrei così nello spazio a mia disposizione vorrei proporre la considerazione della della platea rimasta eh nonostante l'ora abbastanza tarda una considerazione su un tema che davvero di comune dialogo italo francese qui abbiamo presente eh Paolo Passaglia che in un volume dell'inizio degli anni duemila eh proprio affrontava il tema del vizio formale del vizio procedimentale nella doppia prospettiva dell'ordinamento italiano e dell'ordinamento francese e quindi vorrei proporre qualche considerazione non sul vizio formale ma soprattutto sulle buone ragioni che possono oggi ancora oggi sostenere la sindacabilità del vizio formale di leggi se ve ne sono in sostanza per dirlo più brutalmente ma ne vale la pena eh vale la pena sindacarlo il vizio formale ora non è questo interrogativo non è un artificio retorico per evocare un problema che non c'è in modo che se ne possa parlare no? Questo interrogativo nasce proprio visto che noi parliamo delle dottrine nasce proprio da una riflessione dottrinaria anzi da un tentativo che è in atto da tempo soprattutto nella dottrina costituzionalistica italiana di svalutazione del vizio formale al di là delle delle ragioni che tradizionalmente spingono a eh limitare questo sindacato ma direi agendo soprattutto sullo statuto teorico del vizio direi sulla sua dignità eh si parla in questo senso di sterilizzazione della devianza formale di decuotazione del vizio formale sono termini che io ricavo ad esempio soprattutto dalla scienza amministrativistica dove questo dibattito è in atto da molto tempo con una differenza rispetto al diritto costituzionale che lì è stato stimolato orientato indirizzato da riforme legislative importanti relativi al procedimento amministrativo nella dottrina costituzionalistica è un problema autorappresentato e quindi mi sembrava opportuno parlarne qui dovendo parlare appunto del dialogo fra le dottrine sembra quasi delinearsi una sorta di di parabola un po' paradossale questo vizio formale che nasce come vizio unico sindacabile anche in regime di costituzione non è flessibile e che anzi in quel regime diventa la violazione massima perché assume le fattezze del vizio non di null diciamo illegittimità ma il vizio di nullità in esistenza questo vizio poi passa per un momento storico anche nella teoria generale come vizio unico pensiamo al formalismo che il segniano all'idea che c'è solo il vizio formale e che non ci sia il vizio sostanziale se non il vizio sostanziale quasi come posso dire sia una sorta di figura che in realtà copre nient'altro che un vizio formale un errore di procedura potremmo dire no? questa parabola adesso mi sembra io leggo così questa tendenza di cui parlerò immediatamente sembra diventare improvvisamente un vizio gregario rispetto al vizio sostanziale che cosa si dice a questo riguardo? innanzitutto un primo aspetto di questa rivisitazione o dequalificazione o dequotazione come vogliamo dire del vizio formale si fonda sulla enfatizzazione del suo ancoraggio temporale il vizio formale si rifà a un fatto storicamente situato a un evento a un cattivo comportamento del legislatore che non rispetta le norme che regolano l'esercizio della sua funzione e quindi è storicamente situato e in conseguenza diciamo così matura la convinzione che al trascorrere del tempo dal momento in cui questo vizio questo fatto evento si verifica si attenui anche in qualche modo il sentore della sua iliceità è passato molto tempo, è trascorso molto tempo non si sente più l'attualità della violazione tanto che si dice che a progressivo allontanarsi del tempo dal fatto evento vizio alla sua sindacabilità successiva e perché il sindacato si possa esercitare ci sarebbe necessità della compresenza di un pregiudizio anche a un interesse sostantivo se non c'è anche un interesse sostanziale il vizio formale in sé sbiadito nel tempo non meriterebbe di essere sanzionato se ne ricava e qui sono citazioni rapidissime che io faccio l'idea del vizio formale come vizio minore vizio di serie B per metafora calcistica marginalizzato perché fondamentalmente in autonomo dinanzi al quale laddove non è in discussione la sostanza sono i casi in cui le leggi che costituzionalmente vanno male secondo procedura vanno bene secondo il contenuto la dichiarazione di costituzionalità non pare giustificata del resto accreditare questa posizione si fa differimento a una giurisprudenza costituzionale che sul vizio formale si mostra abbastanza timida prudente sembra quasi manifestare una certa difficoltà insomma da una parte il logorante stridore interno del vizio dall'altro la sua scarsa offensività farebbero sostanzialmente della sua repressione per l'ordinamento un'operazione diciamo così a vuoto basso interesse non ne vale la pena non solo in questa prospettiva di rivisitazione si torna ma non lo posso fare perché il tempo non me lo consente si torna anche a rivedere la giurisprudenza costituzionale sul vizio formale di legge per violazione di norme regolamentari quindi la sentenza dei primissi anni di attività della Corte a rivedere passando da un criterio formale come quello della Corte se c'è violazione diretta della Costituzione il vizio è sindacabile se c'è violazione del regolamento parlamentare il vizio non è sindacabile e a rivedere questo criterio d'ordine formale con un criterio sostanzialistico legato all'interesse delle parti politiche se la violazione è sorretta da un consenso delle parti politiche il vizio non è sindacabile altrimenti il vizio è sindacabile l'argomentazione è molto ricca io qui ho fatto una sintesi molto 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 ravida piena di stimoli interessante anche animata da sincero realismo da una polemica antiformalista c'è tutto questo oltre all'autorevolezza della dottrina di cui sto parlando tuttavia questa posizione non mi persuade non mi convince e dirò rapidamente le ragioni per cui mi sento di dire che ci sono ancora ragioni attuali per sindacare il vizio formale che non è passata del tutto la sua stagione una prima osservazione che mi sento di fare è che se è vero che il vizio formale è ancorato temporalmente è ancorato a un fatto evento il cattivo comportamento in quel momento storico di quel legislatore storico non di meno non si può dimenticare che è un vizio che ha una rilevantissima dimensione prospettica data dalla tendenza che direi quasi naturale mi sentirei di dire che il fatto vizio ha di trasformarsi in prassi viziosa il vizio diviene prassi viziosa questa direi quasi una regola aurea secondo me gli esempi potrebbero essere tantissimi ma molti di noi credo che ne abbiano in mente e quindi c'è una tendenza del vizio formale a riprodursi tutte le volte in cui quella norma sulla normazione che è stata disattesa deve trovare nuova applicazione e questa nuova applicazione spesso diventa nuova disattenzione e quindi con la perdita di capacità prescrittiva della norma sulla normazione è evidente insomma la disattenzione non sanzionata la norma del vizio formale va vista secondo me più ancora che in relazione a quel processo normo riproduttivo in cui si è verificato il vizio va vista secondo me nella prospettiva dei processi normo riproduttivi venturi che quella norma astrattamente è chiamata regolare e che subiscono e che subisce per questo una forte erosione insomma per dirle in soldoni secondo me il vizio formale è un vizio a vocazione altamente diseducato stante l'ulteriore virtù che in questo caso è il sindacato perché quando il sindacato opera sul vizio formale di legge in realtà spesso interviene su una prassi viziosa e quindi lì significa non sindacare l'atto ma addomesticare la prassi e quindi ha una virtualità il sindacato molto maggiore rispetto a quella che ordinariamente ha insomma la pretesa assenza di un interesse sostantivo secondo me va controbilanciata con la capacità corrosiva come posso dire sistemica del vizio formale di cui questo ovviamente non venga sanzionato del resto se ci si pensa bene almeno questo mi è venuto in mente riflettendo su queste poche cose che vi sto dicendo se ci si pensa bene il vero problema del sindacato formale non sta in una sorta di sua dequalificazione di una sua pretesa minorità rispetto a quello sostanziale semmai il vero problema sta nella sua plusvalenza nel fatto cioè di potersi tradurre in prassi viziosa se mi consentite la digressione il vizio formale è un po' come il bene nella teologia medievale diffusivum sui ha questa capacità di diffondersi il vizio formale e qui sta il problema del sindacato perché spesso la corte ha di fronte un atto viziato formalmente ma se lo sanziona se lo annulla rischia poi di produrre un effetto domino di precarizzazione della legislazione che prodotta nella stessa anomalia procedimentale che la corte sanziona rispetto a quel singolo atto diciamo così denunciato ma non basta secondo me la posizione qui criticata a me si espone a un ulteriore rilievo cioè non valuta adeguatamente cioè opera una sorta di dicotomia tra vizio formale rispetto delle regole procedimentali e tutela degli interessi sostanziali come se fossero due mondi per cui ci vuole il secondo per diciamo sorreggere il sindacato sul primo se no non merita la sanzione non deve essere erogata diciamo così è una dicotomia che non è nella realtà secondo me cioè dietro a problemi formali ci sono problemi di tutela di diritti individuali di posizioni individuali questo la corte costituzionale ce l'ha detto in più di un'occasione ce l'ha detto in più di un'occasione no? ed anche il principio stesso principio della certezza del diritto non deve essere solo valutato rispetto alla chiarezza del dato normativo alla comprensibilità alla legittimità del dato normativo ma è anche come aspettativa che i pubblici poteri rispettino le norme sulle fonti chiudo questa mia chiacchierata sperando di stare nei tempi chiudo questa mia chiacchierata ricordando un insegnamento che forse in questa diciamo così in questa riflessione sulla decodazione del diritto formale non si diciamo così non si tiene in adeguata considerazione e l'insegnamento è quello fornitoci da un costituzionalista italiano di primissimo valore che è stato anche già evocato in precedenza che è Carlo Esposito che in quella secondo me bellissima voce consuetudine dell'enciclovedia del diritto ci ricorda una cosa che ripeto forse non sempre teniamo in considerazione adeguata cioè che la classe delle norme sulla normazione assai più della generale categoria delle norme riposa sull'esigenza di una prassi conforme di una consuetudine applicativa perché in questo caso no? per cui l'eventuale trasgressione assume un disvalore ben più profondo di quello che accade se viene violata la norma comune è la norma di condotta potremmo dire per capirci no? perché la violazione della norma sulla normazione in realtà significa creazione di nuovo diritto questa è la differenza se si viola una norma quella norma mantiene la sua vigenza se si viola la norma sulla normazione sulla produzione del diritto in realtà quella violazione assume un significato più profondo cioè la creazione di nuovo diritto con un effetto ben più scardinante a mio modo di vedere della violazione della semplice norma con questo credo di aver esaurito il mio tempo e vi ringrazio per l'attenzione anche per l'ora abbastanza tarda grazie e allora grazie Paolo a questo punto la parola al presidente Silvestri grazie presidente grazie io mi unisco al coro di lodi e complimenti per Giuliano Serges e gli organizzatori di questo bellissimo convegno che ci ha consentito di approfondire aspetti veramente importanti sia del sul versante italiano che su quello che su quello francese e vorrei ricollegarmi nel mio intervento a una frase che ha detto Renato Balduzzi un momento fa rivolgendosi agli amici francesi siamo tutti nella stessa barca ma qual è questa barca? la barca è quella del grande assente di questo convegno dell'Unione Europea della contenitore di una pluralità di stati nazionali che tendono ad integrarsi e non possono non integrarsi anche se molti non lo vogliono e nell'integrazione devono trovare necessariamente una convergenza di istituzioni e di prospettive assiologiche altrimenti l'integrazione non avviene e credo che proprio l'esempio della clamorosa bocciatura del trattato costituzionale proprio con il referendum francese e olandese sia stata la dimostrazione che in questo campo il volontarismo non funziona che i processi sono enormi ma hanno anche una certa lentezza e bisogna osservarli con molta attenzione ma per essere consapevoli in quale tipo di barca ci troviamo e se veramente la barca in cui ci troviamo italiani francesi tedeschi belgi eccetera è una barca caratterizzata dalle caratteristiche fondamentali dello stato costituzionale di diritto cosiddetto e occorre forse guardare un momento indietro e vedere da dove veniamo nel testo scritto ho approfondito un anche se non ovviamente in modo esaustivo il fatto che nel ventesimo secolo in Europa abbiamo assistito alla prevalenza del nazismo in germania del fascismo in italia del franchismo in spagna del comunismo sovietico in russia e del se mi è consentito dire del liberalismo autoritario in italia anche prima dell'avvento del ventennio fascista il liberalismo italiano è stato un liberalismo di tipo autoritario non non penso che i cannoni di bava beccari se fossero il simbolo della libertà e allora se questo è vero noi non possiamo non vedere che questa barca parte come è stato detto migliaia di volte da un orizzonte carattere puramente mercantilistico e non basato sui valori fondamentali della civiltà che caratterizza lo stato costituzionale di diritto e quando nel 1992 nel trattato di maastricht compare l'espressione tradizioni costituzionali comuni alcuni di noi ci ebbero l'impressione di trovarsi di fronte ad uno simbolo concettuale se non testuale se non letterale perché erano tradizioni proiettate in avanti perché le tradizioni che avevamo alle spalle erano di ben altra di ben altra natura quindi erano tradizioni che si potevano tradurre nella parola prospettiva o in tradizioni culturali costituzionali comuni e non istituzionali di diritto positivo perché altrimenti come tradizione avrebbero avuto uno spazio temporale molto limitato e soltanto naturalmente io salto e chiedo scusa dei salti che faccio nel testo c'è un maggiore dettaglio c'è un maggiore dettaglio è soltanto con il trattato di Lisbona che nell'articolo 2 abbiamo disegnato finalmente i contorni di un'Europa che contiene al suo interno stati basati sui principi fondamentali del costituzionalismo contemporaneo della democrazia pluralista e ce l'abbiamo nell'articolo 2 che mi permetto scusate di ricordare perché è importante ai fini poi della valutazione per esempio dell'incidenza della giustizia costituzionale sui diritti fondamentali e non soltanto sui conflitti il rispetto della dignità umana della libertà della democrazia dell'uguaglianza dello stato di diritto dei diritti umani compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e la stessa disposizione dell'articolo 2 aggiunge questi valori sono comuni agli stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo dalla non discriminazione dalla tolleranza dalla giustizia dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini si tratta di una potentissimo richiamo deontologico assiologico deontologico non di una mera fotografia dell'esistente e fra un momento vedremo che non era una fotografia dell'esistente perché non è vero che tutti gli ordinamenti sono basati su questo effettivamente magari lo saranno sulla carta nelle costituzioni nelle costituzioni nelle costituzioni formali c'è stato da lisbona in poi ma direi da maastricht in poi un cammino tortuoso complicato fatto di balzi in avanti ma anche di ritorno indietro di complicate manovre a zigzaghi che hanno portato che hanno portato molti stati anche a frenare rispetto a spinte invece innovative proveniente da altri da altri stati ecco perché i confronti come quello di oggi sono utilissimi ma vanno sempre inquadrati in questa prospettiva altrimenti rischiano di sembrare confronti fra stati nazionali sovrani del tempo che fu e il compito della dottrina costituzionalistica oggi è di vedere al mio modesto e sommesso avviso come diceva una volta è quello di vedere questa grande scelta tra il fondamento di autorità e il fondamento di valore come procede in Italia e in Europa perché in Italia, in Francia, in Germania, in Europa perché la scelta tra fondamento di valore non è una scelta diciamo così puramente culturale o metodologica è una scelta che poi incide sul concreto agire delle istituzioni come vedremo fra un momento farò qualche cenno al contrasto che oggi esiste tra l'Unione Europea tra le istituzioni europee e la Polonia, stati come la Polonia o l'Ungheria ma che non illudiamoci potrebbero sorgere anche con altri, con altri stati due concezioni di cui l'una è quella classica che risale a Baudin della sovranità intesa come possibilità, capacità, potere di dettare la legge e di dettarla in modo incontrovertibile ecco perché sappiamo che sia nell'Assemblea Costituente Italiana che in Francia poi dopo per molti altri anni la Corte Costituzionale non è stata ben vista il controllo di costituzionalità non è stato ben visto ricordiamo che nell'Assemblea Costituente Italiana si pronunciarono contro il controllo di costituzionalità contro l'introduzione della Corte Costituzionale tutti i liberali della grande scuola del liberalismo italiano ecco questo liberalismo autoritario di cui parlavo prima Vittorio Emanuele Orlando fu contrario alla Corte Costituzionale Francesco Saverio Nitti fu contrario alla Corte Costituzionale tutto il liberalismo pre-fascista si schierò contro la Corte Costituzionale e si schierà contro la Corte Costituzionale anche il Partito Comunista cioè Togliatti ebbe a dire in quella sede mi dovete spiegare perché 15 signori che nessuno ha eletto possono porre nel nulla una legge approvata dai rappresentanti del popolo questa idea della sovranità che negli ordinamenti democratici si identifica con il popolo quasi allo stesso modo in cui si identificava con il monarca non è concepibile con un controllo la sovranità non può essere controllata altrimenti non è sovranità con un tipo invece diverso di sovranità di carattere oggettivo che si sta facendo sempre più avanti che è riflessa in quell'articolo 2 che ora ho letto che è invece una sovranità che non implica la superiorità di alcun soggetto che ha il potere di decidere in modo incontrovertibile del resto il compito del costituzionalista non è quello di far finta di niente di mantenere una sorta di neutralità ipocrita rispetto a ciò che avviene bisogna riconoscere in tempo oggi oggi non facendo previsioni future qua si parlava di previsioni future no oggi i segni premonitori scusate la parola pesante che uso dell'orrore questo orrore in Europa l'abbiamo vissuto una volta è stato tale da far scolorire tutte le categorie giuridiche e bisogna essere in grado di comprendere i segni premonitori dell'orrore come non lo furono invece negli anni 30 anche i nostri predecessori sempre costituzionalisti senza snobbismi salottieri senza minimalismi più o meno di maniera del resto lo stesso Kelsen alla fine della seconda guerra mondiale disse ci sono due concezioni del diritto quando sostenne la superiorità dell'ordinamento internazionale rispetto a quelli a quelle nazionali ci sono due concezioni del diritto una basata sul pacifismo e l'altra basata sull'imperialismo ma guarda un po' il formalista Kelsen era meno formalista di noi quando riconosceva che se si imboccava una strada si arrivava a una certa conclusione se si imboccava un'altra strada si arrivava ad un'altra conclusione oggi noi siamo di fronte ad una scelta di questo tipo imbocchiamo una strada la strada delle identità nazionali che qualche corte costituzionale ha sbandiera delle identità costituzionali che rappresenterebbero limite a tutti i principi a tutti i valori e a tutti i diritti fondamentali e che l'idea tradizionale della sovranità e del fondamento di autorità o invece un'idea diversa cioè dello Stato costituzionale che è ed esiste e permane unicamente perché certi valori continuano ad essere osservati tra questi principi valori fondamentali mi pare che sia e qua forse possiamo essere tutti d'accordo italiani francesi tedeschi quello dello Stato di diritto anche perché questo è il principio dello Stato di diritto è un principio liberale non c'è bisogno di fare una scelta fra destra sinistra socialisti comunisti orientamenti diversi di politica economica no lo Stato liberale è il cuore dello Stato costituzionale qualcosa che è stato inglobato da prima all'interno dello Stato costituzionale rappresenta come dire il minimo il minimo di sopravvivenza sarebbe si è parlato dell'Europa e quindi anche del Stato di diritto come comunità di valori e sempre di più la dottrina io ho trovato anche molta dottrina francese parla di comunità di valori a proposito dell'Europa ma sarebbe vuota retorica se non vigesse appunto il principio di legalità senza il principio di legalità e soprattutto di quello che io chiamo il principio di macro legalità il principio di legalità costituzionale se non esistesse questo tutti gli altri valori di cui discutiamo non avrebbero garanzia di tutela non avrebbero garanzia di effettività su questo si dovettero ricredere anche molte forze politiche rispetto all'introduzione del controllo di costituzionalità tanto è vero che poi gli Stati che diventarono democratici dopo l'Italia dopo la Germania introdussero tutti il controllo di costituzionalità alla faccia dell'esaltazione della sovranità popolare dell'esaltazione giacobina di origine giacobina dell'intangibilità della sovranità della sovranità della sovranità popolare e se oggi siamo qui a discutere di un confronto tra l'esperienza italiana della corte istituita nel 1956 e l'esperienza più recente francese ma che ha avuto significativi balzi in avanti e perché ci siamo resi conto tutti italiani francesi poi tedeschi ma spagnoli un po' tutti che senza il controllo di costituzionalità si va a ricadere in quella via della sovranità soggettiva che ha al suo estremo limite l'orrore che nessuno vuole che si che si ripeta e la corte di giustizia ha accertato e vengo al caso e concludo al caso che mi di cui mi interessa parlare in questo momento e non non diciamo che si tratta di cose che riguardano altri la corte di giustizia ha deciso in via definitiva che la polonia ha infranto le regole dello stato di diritto introducendo delle norme che mettono in pericolo l'indipendenza della magistratura ci sono segni in Italia in cui qualcuno facendo leva su indubitabili magagne di singoli magistrati gruppi o correnti di magistrati vuole mettere il bavaglio la magistratura ci sono se mi si dice che non ci sono io mi tranquillizzo ma purtroppo non credo che ci sia qualcuno che me lo possa dire e credo che la cosiddetta offensiva sovranista a cui assistiamo in tutta Europa e che ancora è contenuta a malapena potrebbe portare in Italia in Francia in Germania in Austria a situazioni di tipo polacco non pensiamo e non diciamo altezzosamente ah ma quelli sono polacchi no 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 assolutamente dobbiamo essere in grado ic et nunc di cogliere i segnali che si stanno che si stanno verificando e io proprio ieri mi pare ho accolto con un piacere da una parte dispiacere dall'altra la sentenza della Corte di Giustizia che ha condannato la Polonia a un milione di sanzioni pecuniarie al giorno per essersi ostinata a difendere queste riforme eh anche in Italia si parla sempre delle riforme alle riforme non è che siano una cosa bella in sé per sé bisogna vedere quale riforme è il contenuto delle riforme e se noi diciamo che vogliamo che i treni arrivano in orario e le leggiamo di nuovo il Duce facciamo una riforma non c'è dubbio e che ci siano molte persone che oggi questo vogliono non lo possiamo nemmeno negare e allora quando ci troviamo di fronte a situazioni in cui la disgregazione della politica io non so non sono un conoscitore abbastanza profondo della realtà francese per sapere se ci sono se siamo a questo punto anche in Francia ma se c'è la disgregazione della politica se i partiti politici sono morti mentre pensosi intellettuali lanciano ancora anatemi contro la partitocrazia sfiorando il vilipendio di cadavere perché non ci sono più questi partiti possiamo noi dire e mettere in croce la Corte Costituzionale se poi fa le cose che è un Parlamento composto di forze politiche incapaci di vedere al di là del proprio naso e del proprio orticello di voti di voti conquistati con fake news o con altri sistemi poco poco commendevoli e possiamo noi mettere in croce la Corte Costituzionale quando certi principi di civiltà li introduce con le buone o con le cattive con attraverso una sentenza qua io mi rivolgo agli amici agli amici francesi non mettete in croce il 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 Costituzionale se fa un passo più lungo perché in Italia questo passo più lungo io sono stato nove anni dentro la Corte Costituzionale se questo passo più lungo è dovuto al fatto che in Parlamento per non perdere quattro voti del del quartierino che sta accanto a casa mia non introduco determinate riforme di civiltà poi non posso prendermela con la Corte che le introduce abbiamo avuto un'esperienza recentissima la io non ho non ho paura di chiamare le cose con loro nome del resto ormai la mia tarda età me lo me lo consente e la bocciatura a scrutinio segreto del disegno di legge del progetto di legge Zanna e la dimostrazione se domani io non lo so se in futuro chissà in domani la Corte si trovasse a fare quello che il Parlamento che aveva dichiarato di voler fare e che poi non ha fatto si trovasse a farlo tutti addosso alla Corte per dire ah ma non poteva ah ma non lo poteva non doveva non poteva e non doveva e non doveva farlo quindi in conclusione allo Stato Costituzionale di diritto bisogna crederci io sono contento che finora le istituzioni europee hanno dimostrato di crederci perché stanno portando avanti questo confronto duro con la Polonia e mi si rizzano i capelli sulla testa se penso a quella alla motivazione della Corte Costituzionale Polacca mi si rizzano i capelli sulla testa perché lì sono i prodromi dell'orrore non dobbiamo aspettare che l'orrore si verifichi perché se l'orrore si verifichi l'unico rimedio è la guerra e nessuno di noi vuole la guerra allora stiamo attenti stiamo attenti non non abbondiamo in sorrisetti salottieri oppure come qualche mio amico pure molto intelligente molto colto dice che ah ma di fascismo non se ne può parlare perché non non si vedono camicie nere dagli ardetti e stivaloni ma che è in modo questo di affrontare le grandi tragedie le grandi tragedie storiche aveva ragione Umberto Eco quando parlava dell'eterno dell'eterno fascismo che si presenta in mille modi e noi giuristi noi costituzionalisti soprattutto costituzionalisti all'interno della categoria dei giuristi abbiamo una responsabilità enorme la responsabilità di sapere individuare i segnali di corrompimento della democrazia pluralista dello stato costituzionale di diritto e denunciarli senza tentennamenti senza ostentare appunto false neutralità che poi sono un comodo rifugio per chi non vuole non vuole non vuole problemi non vuole guai non vuole ritorsioni e allora scusate forse sono andato un po' oltre la tematica strettamente tecnica di questo di questo convegno anche se non è stato un convegno strettamente tecnico ma di larghissimi di larghissimi orizzonti ma queste cose sentivo il bisogno di dirle alla prima occasione che mi capitava mi è capitata questa e l'ho detta ci saranno ci sarà un confronto duro in futuro all'interno dell'Unione Europea e a questo confronto saremo chiamati italiani francesi saremo chiamati tutti io non so come andrà a finire appunto perché come diceva Massimo Luciani non faccio il profeta non so quello che succederà e non mi sento in grado di prevederlo ma di una cosa sono certo sono certo da che parte starò grazie grazie a presidente Silvestri veramente di queste sue parole a questo punto credo che abbiamo non un collegamento in diretta ma una videoregistrazione giusto se non va del rato del professor Filippo che forse potremmo mandare e poi altre interventi non ce ne sono poi a questo punto diciamo apriamo la discussione ecco credo che il video è pronto io tiens tutto d'abord a ringerciare i organizzatori di questo colloquio e vi prie di ben vouloir scusare l'abscenso fisico ma le nuove date proposte è stata per me impossibile io ho deciso di introduire questa riflessione a la table ronde autour della crisi della justice constitutionale in m'interroge per sapere se è una crisi di modi o di una crisi di identità la france con la decisione relativa a la loi organica sull'urgenza sanitaria l'allemagna con la decisione sull'absc la pologne con la loi sull'adjustice senza parlare della cour suprême degli Etats-Unis con la decisione sull'avortamento tutto incite a considerare che ces derniers temps la crise frappe la justice constitutionale in son ensemble l'idea même de crise è divene tellement courante che l'on ne sape più ce che l'on deve considerare come una periodo normale la crise è regolièrement evoquée per disegare tutto ci che non funziona o tutto che funziona male senza che l'on sache veramente ce che è il funzionamento idéale ceci n'est bien sûr non proprio al droit constitutionale ma si si reflète évidemment même si les signi de la crise sont plus visibles dans le droit constitutionnel institutionnel des relations de pouvoir que dans le droit constitutionnel jurisprudentiel la crise des relations entre les pouvoirs notamment exécutifs et législatifs ou encore la crise entre les pouvoirs et le corps électoral comme la crise des gilets jaunes en france les nouveaux mouvements politiques populistes en europe et un peu partout dans le monde sont devenus des renguettes partagées à peu près dans tous les états et sur tous les continents pourtant le droit constitutionnel jurisprudentiel n'a pas échappé à ce phénomène de crise on évoque la crise des modèles la crise des normes de référence la crise des institutions elle-même avec par exemple le mode de nomination des juges et leur politisation la justice constitutionnelle qui avait réussi à s'installer progressivement dans le paysage juridico-politique fait aujourd'hui l'objet de suspicions de critiques de remises en cause de la volonté générale pour certains ou de l'autorité de l'état pour d'autres chacun y détecte les faiblesses qu'il veut y voir ce n'est pas en soi nouveau mais l'ampleur du phénomène est beaucoup plus forte si la crise de la justice constitutionnelle n'est pas aussi médiatique que celle des institutions le malaise est bien palpable et conduit à s'interroger sur sa nature et son incidence à moyen et long terme la nature de la crise de la justice constitutionnelle ne lui est pas spécifique c'est toute la justice qui est aujourd'hui remise en cause ou regardée avec scepticisme le pouvoir juridictionnel n'est plus cette instance régulatrice de contrôle et d'interprétation des règles juridiques ses décisions mais également son raisonnement voire son attitude sont critiquées contestées il existe une forme de divorce et d'incompréhension entre les juges et le reste de la population régulièrement relayée par les médias si le phénomène est peut-être moins visible à l'égard de la justice constitutionnelle en raison de sa moindre exposition il n'en est pas moins identique la justice et le juge constitutionnel sont également la cible d'attaque et de remise en cause plus forte que celle dont ils font l'objet habituellement alors quelles sont les raisons de cette remise en cause plus qu'une question de modèles et de fonctionnement c'est la place du juge constitutionnel qui fait aujourd'hui l'objet de critiques sa jurisprudence et les motifs de ces décisions sont en réalité l'objet central des critiques formulées ce ne sont pas tant les modèles de justice constitutionnelle qui sont en cause pour autant que ces modèles existent même si l'on peut souhaiter telle ou telle amélioration ou telle ou telle réforme les modèles de justice constitutionnelle sont en réalité une commodité pédagogique pour présenter et classer les différentes juridictions ayant à connaître du contrôle de constitutionnalité aucune juridiction n'est parfaite l'ancrage et l'implantation d'une juridiction constitutionnelle sont avant tout le résultat d'une histoire et d'une culture les périodes d'implantation puis de développement permettent de comprendre l'essor qu'a connu une cour constitutionnelle à travers telle ou telle forme de contentieux ou de contrôle ce n'est ni bien ni mal il s'agit d'un résultat produit par la rencontre de nombreux facteurs certains systèmes apparaissent plus avancés que d'autres mais l'idée d'une convergence entre les modèles possède surtout un intérêt explicatif chaque système est unique en soi et se développe au gré du contexte qu'il rencontre ce que l'on baptise crise des modèles n'a pas grand sens chaque juridiction constitutionnelle se rattache à des tendances qui la font rentrer plutôt dans un modèle que dans un autre ces classifications représentent une commodité mais sont également dangereuses car elles conduisent à uniformiser ce qui n'est jamais totalement et à réduire parfois des particularités qui font la spécificité d'un système en revanche cette globalisation des justices constitutionnelles a généré un regard sur les autres qui s'est avéré riche en interaction le constitutionnalisme comparé donne des idées et la consultation des jurisprudences des autres cours sur un sujet auquel une juridiction constitutionnelle est confrontée est devenue courante que cette consultation soit officielle ou officieuse il serait donc plus exact sur ce point de considérer que l'on a effectivement assisté à un enrichissement mutuel des juridictions constitutionnelles qui ont pu s'inspirer sans nécessairement les copier de jurisprudences d'autres cours qu'elles ont adopté ou adapté alors les raisons de la remise en cause sont ailleurs dans une combinaison de facteurs qui a placé les juridictions constitutionnelles dans une position où les incidences de leurs décisions se répercutaient sur des choix les positionnant comme des acteurs du système et non plus comme des arbitres dans ce contexte la crise a pu être perçue tantôt comme une démission tantôt comme une prise de pouvoir il suffit ici de se rappeler les effets produits par les états d'urgence sur la jurisprudence constitutionnelle ainsi que les critiques qu'elle a pu susciter la question principale semble être celle de la perméabilité de la justice constitutionnelle au contexte dans lesquels elle intervient elle semble de plus en plus sensible à ces contextes qu'elle rencontre et adopte des positions dont la justification semble fonction de l'enjeu de la question sur laquelle elle se prononce cette question de la politisation de la justice constitutionnelle que ce soit pour ne pas s'en mêler au contraire pour y entrer de plein pied est devenue un élément de cette crise d'identité qui semble gagner du terrain dans toutes les juridictions constitutionnelles cette caractéristique n'est pas nécessairement immédiatement perceptible car la jurisprudence n'est pas uniforme et les décisions audacieuses ou décevantes se mêlent aux décisions plus classiques moins politiques mais qui continuent à inscrire la juridiction constitutionnelle dans une démarche classique de son raisonnement ce sont surtout les décisions à haute incidence politique qui génèrent une interrogation quant à leur motivation et à leur insertion dans un ensemble jurisprudentiel devenu moins lisible la crise semble davantage se glisser dans une perte de logique d'ensemble de la jurisprudence et par une multiplication des décisions inexplicables autrement que par le recours à l'exception ou à l'explication extrajuridique alors quelle est donc l'incidence à moyen et long terme de cette crise de la justice constitutionnelle les éléments de réflexion sont ici plus prospectifs et donc logiquement plus ouverts au débat mais conduisent à s'interroger plus précisément sur l'effet transformatif que cette crise pourrait avoir sur la justice constitutionnelle 4 questions semblent pouvoir être évoquées à l'observation de ce phénomène la première semble être une perméabilité plus grande de la jurisprudence constitutionnelle aux questions politiques ce n'est ici nullement un jugement de valeur et les cours constitutionnels semblent elles-mêmes adopter des positions assez différentes mais clairement marquées face aux enjeux conséquentialistes de leurs décisions qu'elles mesurent parfaitement leur attitude est cependant clairement marquée soit par un refus d'intégrer ces questions politiques soit au contraire par l'acceptation de franchissement d'une frontière et un recul de la doctrine dite des questions politiques ceci se mesure autant par la motivation que par le résultat et donne lieu à des renouvellements ou des revirements jurisprudentiels le tout étant savamment orchestré par le jeu de l'ensemble des mécanismes de contrôle et des techniques d'interprétation que le juge utilise pour justifier ces évolutions la deuxième observation de cette transformation réside dans une imbrication plus nette entre les éléments institutionnels et les éléments jurisprudentiels qui caractérisent la justice constitutionnelle ceci se manifeste par une interaction plus grande du pouvoir institutionnel dans le pouvoir jurisprudentiel alors que la jurisprudence est généralement analysée pour ce qu'elle est il devient difficile de ne pas s'interroger sur l'impact des nominations ou du choix des juges sur la jurisprudence elle-même et sur certains revirements difficilement explicables peut-on aller jusqu'à évoquer une dépendance de la justice constitutionnelle au regard du pouvoir politique quel est le degré de résistance de la justice constitutionnelle au bouleversement généraux de la politique nationale s'il faut bien entendu se garder de tout amalgame l'évolution de la conception de la justice constitutionnelle peut avoir une incidence importante sur le reflet qu'elle renvoie et les décisions qu'elle rend la troisième observation porte sur l'extension des éléments de protection que la justice constitutionnelle intègre dans son contrôle en multipliant le nombre des standards c'est-à-dire de normes souples à contenu variable celle-ci interprète la constitution en développant de nouvelles conceptions dont les limites semblent en réalité assez malléables pour pouvoir servir de soupape de sécurité en cas de difficulté ainsi le recours à des notions nouvelles dans la jurisprudence comme celui de sauvegarde de l'identité constitutionnelle quand bien même les termes sont employés dans la constitution ouvre un large pouvoir discrétionnaire au juge qui peut ainsi en quelque sorte faire varier le seuil de ce qu'il considère comme admissible ou non sans que l'on sache précisément où se situe le point de rupture la quatrième observation est plus directement perceptible elle s'appuie sur une conception renouvelée des droits fondamentaux qui n'est plus nécessairement aussi protectrice que ce qu'elle était auparavant la remise en cause des droits fondamentaux constitutionnellement protégés n'est aujourd'hui plus un tabou si ce ne sont pas les droits et libertés qui sont directement touchés leur substance devient moins protégée et répond à des standards de protection en déclin sous couvert d'impératifs nouveaux de l'intérêt public intérêt général ordre public voire même de conceptions morales qui ne disent pas leur nom cette remise en cause de la protection des droits fondamentaux n'est cependant pas générale elle s'intègre dans un ensemble progressif régressif permettant de transformer cet amoindrissement de la protection de nouveaux droits ou de nouvelles libertés qui ne présentent cependant pas le même enjeu alors en conclusion quels sont les dangers que représente cette crise d'identité de la justice constitutionnelle faut-il y voir une évolution inéluctable qu'il faudrait apprivoiser en redéfinissant le cas de cette justice ou considérer au contraire que ces transformations représentent les signes avant-coureurs de l'annonce d'un déclin il est bien difficile de le savoir mais il faut remarquer que certains indices conduisent à s'interroger sur la perte d'aura de la justice constitutionnelle plus celle-ci sera impliquée dans les choix politiques difficiles plus sa position sera semble-t-il fragilisée l'idée de n'en faire qu'un juge des normes semblait être une forme de protection pour elle dès lors que ces mêmes normes interviennent dans un contexte identifié conduit le juge constitutionnel à abandonner le pur contrôle abstrait qui renforçait sa position il devient qu'il le veuille ou non un acteur de ces processus dont l'engagement varie suivant les états alors l'enjeu est loin d'être mince car ce faisant c'est toute la place de la justice constitutionnelle qui risque d'être remise en cause je vous remercie alors ringraziamo anche il professor Philippe per il suo intervento anche se videoregistrato e direi che la sessione questa si può chiudere qui va c'est qui va ce qui va